benvenuti benvenuti su kiwi game oggi video argomento che si trattava sarà questa nella mia idea serie ogni volta c'era un argomento legato a questo titolo sarà vero che giochi una volta erano più difficili i giochi di oggi risposta secca e breve sì ma dobbiamo analizzare il perché di questa difficoltà esiste una difficoltà oggettiva che una volta i giochi no tecnicamente notevolmente limitati pintate un primo gta a un primo tom rider le limitazioni tecniche si vedono soprattutto nel level design molto cubettoso e con una profondità di visione quasi nulla e nel gameplay con dei movimenti legnosi difficili da capire le difficoltà di trovare un appiglio o un passaggio un passaggio segreto erano enormi ai tempi poi si vedevano la mancanza totale di mappe quindi noi non sapevamo dove andavamo e soprattutto nella mancanza totale di checkpoint chi moriva a tre quarti del capitolo doveva rifarsi tutto il capitolo e senza parlare del backtracking la chiave che si apri la porta finale del capitolo la dimenticavi all'inizio non c'è nulla che ti avvisassi hai dimenticato qualcosa di importante lo scoprivi alla fine dicevi non puoi aprire la porta senza la chiave e la domanda era e dov'è che lo pensa la chiave allora tom rider ci toccava tornare indietro tutto il cammino per trovare la chiave che avevamo dimenticato quindi il limite tecnico era essenziale per creare la difficoltà erano giochi anche più lenti rispetto a quello di oggi anche per dei limiti tecnici non potevi mettere a schermo più di uno due nemici perché le potenze delle macchine non permettevano di avere più i tot nemici a schermo i paesaggi erano molto più sporchi di oggi è tutto molto minimalista e passiamo quindi al secondo punto essendo tutto minimalista complicato non difficile ma complicato a cui ci voleva dedicare tanto tempo i videogiochi erano esclusiva dei cosiddetti nerds chi giocava i videogiochi solo i cosiddetti sfigati nerds perché gli altri i giochi non li guardavano oggi la situazione cambia radicalmente oggi non abbiamo più un gruppo di amanti appassionati a cui la sfida di arrivare un punto in gioco era una motivazione in più non una frustrazione oggi la massa di giocatori è aumentata a dismisura grazie anche al fatto che i giochi sono molto più belli da giocare molto più da vedere e quindi cambiato anche il modo di fare i videogiochi perché su una massa così grande giocatore i giocatori appassionati al cento per cento sono pochi la massa che ha fatto aumentare tutto il commercio dei giochi sono casual gamer che per vari motivi perché hanno famiglia hanno lavoro non hanno tempo a giocare vogliono giocare solo quelle 10 20 al massimo mezz'ora al giorno e divertirsi divertirsi normalmente vuol dire vittoria uno che perde cento volte in mezz'ora non si diverte quindi se una software out fa un gioco difficile le vendite caleranno perché i casual gamer non acquisteranno quel gioco perché è una frustrazione per loro è acquistata solo da chi ama quel tipo di giochi vogliamo fare un esempio capped capped è stato definito secondo me erroneamente un gioco difficile in realtà è un gioco complicato ma che un giocatore esperto sa che dopo alcune morti studiando i partner nemici si arriva la soluzione ovvio inizialmente è una soluzione mentale la soluzione manuale arriva con la pratica la pratica esige ore di gioco il casual gamer ha difficoltà a imparare due cose perché non ha il tempo magari alla fine sezione ha capito mentalmente come risolvere lo schema ma non ha ancora la memoria meccanica delle mani col joystick o della tastiera volate voi per risolverlo e questo è un problema quindi è ovvio che le grosse store house che investono milioni per fare giochi tecnicamente all'avanguardia per fare dei paesaggi monzafiati il motion con gli attori assumatori e tutto per fare le scene reali è normale che puntino alla massa e non ai nicchie per fare disegni così accurati paesaggi così accurati tutto la necessità è sempre di più di gente che lavora una volta non so bastano 30 programmatori si faceva il gioco adesso ce ne vogliono 300 un gioco costa 100 milioni devi vendere e recuperare quei milioni investiti e se puntiamo su una piccola fetta di giocatori non lo recupererà quindi si punta sulla grande massa poi ovvero sono case distribuzioni come iei ultimamente stanno esagerando con le micro tradizioni fondamentalmente la ridotta difficoltà è dovuta ai maggiori investimenti i maggiori investimenti sono fatti perché si sa di avere un pubblico maggiore oggi quanta gente ha una playstation in casa o una xbox o un computer per giocare rispetto a 20 anni fa una marea 20 anni fa cosa fai di hobby gioco videogiochi e ti guardano distort oggi se vai a una classe credo che il 90 per cento giochi videogiochi quindi riassumendo il perché una volta i giochi sono più complicati il primo motivo è puramente tecnico le limitazioni tecniche creano difficoltà il secondo motivo è di puro marketing essendo i giochi più costosi da produrre perché necessitano automaticamente di una massa di giocatori molto più grande bene questo video finisce qua spero che l'audio sia buono arriverà presto il nuovo microfono che sto comandato dovrà arrivare domani in teoria se arrivo domani magari faccio anche un unboxing del mio IETI vediamo se vi interessa l'argomento ditemi la vostra qua sotto nei commenti iscrivetevi lasciatemi un like alla prossima ciao ciao ah prima del ciao ciao definitivo qua dietro di me sono trascorrendo dei giochi di anni 80 e 90 pensate quale ragazzo oggi giocherebbe un gioco così io credo nessuno grazie a tutti